Qua Braum lo giocherei, si, giocherei o Braum o un engager Chi ci abbiamo? Kazix, Victor, top chi abbiamo? Se prende un engager Ohioioio, allora qua giocherei trash Giocherei trash, o naudilus Vediamo i trash Sentirti parlare, se ne metti lollo è uno dei motivi per cui guardo i tuoi stream, sei gradevolissimo Grazie Che cosa è bella che hai detto, grazie di cuore Hanno veramente tanto addirne, già qua i tabi sono forti Noi non ci abbiamo il tank però, purtroppo Tabi, really good here Ma come giocano questi cani? Purtroppo io un pezzo di legge resistenza dovevo prendere Allora, il mio pick a di cari fa schifo Perché è un pick melee contro Ah, c'è mi stupido Ciao Jacopo, grazie per i nonni messi king Vai, mi metto questa skin se non vi piace A me non mica, a me non Ah, c'è mi stupido Non deve essere facile Ciao Sergione, grazie per il susca di livello 1 Benvenuto Come hai trovato Vicious come caster? Va, Vicious è una macchina Molto molto bravo e alla mano E simpatico e competente È una persona che vuoi avere A fare quel lavoro proprio All'inizio era un po' imporito Che potessi addirittura spaventare Con la moda di informazioni che dava Però più passava il tempo Più diventava veramente una conversazione Fra amici che guardano una partita E ce n'è uno che ne sa di più Che ti spiega quello che succede Molto bello Molto interessante Cioè Brown è buono contro Yolin E fa schifo contro i campi da POC Bravissimo Esatto In realtà Counter chiaramente i ranged Che sono i campi da POC Ma quindi vuoi giocare contro Graves Kindred E Lucian Ma contro Karma Jean Non è divertentissimo Giocare Brown Perché Sei continuamente assediato Mentre contro Leona Jean È forte Perché nel momento in cui Ingaggia Leona Tu ti frapponi Fra te Fra Leona e Jean Impedendo a Jean Di fare autoattacchi Sul tuo carry E girandosi Sul Leona Però Vuole coprire i danni ranged Ma nel momento in cui C'è un engage Se è tutto POC Lui è un po' lì Che Ci deve essere Uno che va in Un Alistar Un Nautilus E gli altri che rimangono fuori Tu devi Proprio devi creare Appunto Fai un muro Fra te e gli altri Mi stai regalando Molte emozioni forti Ho l'attachicardia Pazzo sgravata Ma no No ragazzi Andiamo in game Vai Invadiamo But If we Get two kills With snowball Suggest one gank When posso Also Easy Gank Setup At 3 Gran peccato Questo Purtroppo Lo immaginavo anche Eal Flash Se sono bravo Molto bene Ho un posizionamento Bellissimo Veramente bello Adesso Ok Lei dubito Che abbia Non è regolato Infatti Vorrebbe Baciami Stupido C'è un buco Se non ho sbaglio Non so Non so se è buono Quale cosa Ma non fa Però Vorrei che morisse Ma al 2 Non c'ho l'abilità Quella farà un passo E le proverà E le proverà A farmarlo Peccato Non ti prendere Il dps E la cimoria Che range piccolo Mi aspetto Molto più lungo Rengard Potrebbe essere Botside Ma probabilmente Mid o top Io voglio mettere Anzi Per far ripartire Il carretto Ma non ce l'ho fatta Fa male Ci serve un gank Vorrei anche Betano Lo schiscio Di brand Ma non ci riesco Io dubito Che brand Mire A picchiarmi E non c'è un problema Mamma mia Che danno Trist Ragazzi Incredibile Accettabilissimo Ma muore Quello Non ci credo Se si ammazza È buonissimo E morto Silas E noi abbiamo preso Un tp Abbiamo preso Una heal Abbiamo preso Un ignite Questi muoiono Io ci sono Ma non c'è La lanterna La mia giocata è Vorrei prendere l'assimo Non ce la farò No La scamo La wave Non è messa Per niente male Non ce la farò Non ce la farò Mi è messare Giai Mi è messa Grazie a tutti. Non vado a rischiare. Mamma mia, con il film, porco due. Bene. E tabi, ma non me li faccio subito. Mi faccio... E... Questo, secondo me, è il back più forte. Ricaricabile. Quindi prendiamo un po' di sustain. Un po' di HP, un po' di armatura, un po' di magic resistance. E facciamo una bella carbonara. Ciao, Risa, grazie di venire per i miei messi. Baciami, stupido. Mamma mia, Paoli, ma quanto sei grosso. Sei enorme. Ma ci passi ancora dalla porta d'ingresso? Eh, devo purtroppo andare di lato, ma per il momento ci passo, sì. Eh, non è facile. Dovrebbero fare delle porte per i palestrati come me. Utilizzo le abilità in base, per chi se lo stesse chiedendo, spesso perché ho più mana rispetto agli HP. E quindi non mi fa perdere tempo. O magari devo sentire di aspettare qualcosa. Dei gold, per esempio. Questo mi aiuta a capire i cooldown delle abilità, a capire quanto costano le abilità in mana e ad altre cose. Ci vogliono chiudere, sembrerebbe. Creve. Dovrebbe morire di auto. Come on. Buono, 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 buono. Buonissimo, buonissimo. Ah, questo non ci fa piacere perché potevano morire due. Andiamo a Baritabi, Pink. Abbiamo fatto pochi soldi, eh, di questo. Se hai più vita che mana ti sparavi. Se ho più vita che mana, non utilizzo le abilità in base. Se utilizzare le abilità in base mi fa perdere tempo, non le utilizzo. Mai. Ah, già mi stupi, no. Non so perché ho avuto paura C'è un buco C'è un buco? Sì, sì Ma non è gravissimo 1050 Sono tanti soldi Eh, ci abbiamo questo È un back di tutto rispetto Quello Qual è la mia colpa? Pensiamo un attimo Secondo me in mid si fa una kill Sono messo bene Sulla mappa Molto bene Ci dovrebbe schettare 20 Oh, porco tu Vabbè ormai Secondo me ci muore Porco tu Mi prendi per il culo Sembra molto forte questa situazione Sembra che siamo superiori a loro Sulla mappa Sono abbastanza incazzato In senso buono, eh Allora E Sento come se li volessi uccidere C'è un senso Veramente di forza Di potenza Dico Io adesso ti distruggo Pa, ce l'avevi stupido Pa, pa, pa Un quinto per Flex Ciru Bella 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 Allora Napoli Grazie miei per 13 mesi Ciru Chi è Ciru Sono io Mi sospiscono sempre alcuni commenti Che magari passano in osservati Che fai sul flow del game Io che osservo Mi accorgo Come te Te del momento De partite Proprio bravo Grazie Lex Sporco 2 Mi fa piacere Mi fa particolarmente piacere Questo commento Perché Ti reputo molto intelligente Trollato Doveva morire I Jax Tutta la vita Ma qui Noi Mettiamo questo Recolliamo E vinci Non sapevo di KazX Trollato Ne sapevo di Ranga Un nemico è stato ucciso Ok Brand Questa cata Io ho feci Ecco come una scimmia Ma ho riprimuto subito Q Che scam Dovremmo pusharne un altro Amico Non so chi mi aiuterà Ma qualcuno mi deve aiutare Mamma che Scringiata Guarda Quei tre Dovevi pushare Sbagliato Non è grave Ma Rò del culo Se muovi è grave Così non dovrei morire Dovevi stupido Ma che ne pensi Direl come support A me sembra Leona Ma più inutile Minore di tre Quello muore Io devo rispettare Qua C'ho Lanterna Mamma mia Mamma mia Questo è il carretto Questo è il carretto Ammazza Il loro AP Il loro AP È Brand Che sta intando Quindi non muoio Mamma mia Quello è fiddato Come vinci Silas Vinci Silas E pensate Fa schifo Eh Trash vivo Adesso ne soggiuriamo Oio We call that in our Village intentional feeding Quando sono così tiltati Che ti vengono addosso Ma ride Un altro C'è l'ho che si serve King Ah Che palle Che sta facendo Sto giocando A parte che vinciamo Allora Non è detto che muoio Qua l'hanno giocato L'antenna no Grab sì Ma l'ho messo Autoattacco non basta Qua si può fare Guarda Non muoio Ne devo grabare uno Quello muore Pensavo detto Allora Tu c'è un'antenna Tenete il male È brutto Decidi il più tardi possibile Ok Abbiamo il Night's Ball È un back importante Tipo qui Quando devo aspettare il mana Pam Servizio autobus Paul Cannon Appa Grazie mille per il sub Scusami se non l'ho visto Vita mia Ma in game Di solito non li vedo Sono focussato Non sento neanche a volte Buon posizionamento Bene Occhio Quello mi muore Magari non muore Ma Dovrebbe Volevo l'assist Non lo prenderò Sono riusciti a prendere Di Aftershock Quello mi ha giocato Pensa Quello muore mio Ok Non va Se ci andava lì Gli facevo la eh Mi sa che ho salvato la vita Nell'amico G Cioè l'IPS Non è no Porco Due Sposo all'improvviso Benissimo Ah vince così la partita Non ci credo Vorrei far parte Di tutto questo Auto Ma vaffanculo Ma perché c'è Mi ha schiamato il super Ciao Davide Grazie mille per l'iscrizione Benvenuto Cuore mio Prendo l'asist Mi sa Prendo due Grabo Renga Oh mamma Lì c'è Ho il loket Oh l'ho grabato Non va Sono lo team fight GG Un altro game Ragazzi Penso che la win rate Non sia più al 50% Ma non ci mettere la mano Sul fuoco eh